Il Carosello Disco Labdance vi invita a trascorrere le vostre serate insieme alla fantastica animazione femminile da tutto il mondo. Carosello. Spettacoli, fascino, bellezza, divertimento fino al mattino. 5 gennaio. Epifania Super Sexy al Carosello Labdance numero 1. Ti aspettano befane bellissime da tutto il mondo. Carosello. Info 051 500 70 500. Carosello. Viene a trovarci. Nel buio delle notti accende le tue serate. Carosello Sexy Disco Via Bazzanese 95 Terzo, Casalecchio di Reno Bologna, località Ceretolo. Tantissimi regali con la Lotteria della Befana.